Questo è un'etichetta, siamo nel 2019 ormai, manca pochissimo al 2019 e ancora le band sognano la grande etichetta, la grande casa discografica. Sognano addirittura, alcuni sognano anche le major, cioè in tanti, e sognano quindi il mondo major. E questo sogno li porta a partecipare a talent, a partecipare a Sanremo Giovani, a partecipare a tutte queste cose qui che ti stritolano. Come dice il titolo di questo video che mi piace molto, lavora da solo o con una piccola label, ma mai con una grande etichetta. Non so se dirisce proprio così, vedrò come lo titolerò, però il succo è questo. Ovviamente il consiglio, questo consiglio vale per chi è all'inizio, perché in un conto va bene la grande etichetta, tutti hanno bisogno di un certo punto di avere a che fare con dei professionisti che ti possono fare il salto, professionisti seri, ok? Però, però, devi anche essere pronto a quel momento e non sei nato pronto. Allora, facciamo le dovute premesse. Sto parlando appunto di band che si trovano all'inizio, no? E di band che magari hanno bisogno di maturare. Dobbiamo fare, quindi dobbiamo togliere tutte quelle eccezioni di botti clamorosi che ci possono essere. E va bene. Ma per la maggior parte delle band che ho di artisti, di cantatori, che scrivono progetti inediti, ok? Che cosa succede? C'è un percorso da fare, ok? E' un percorso in cui l'artista matura. E quindi all'inizio, le prime esperienze, beh, secondo me le deve fare da solo o le deve fare con una piccola etichetta e magari crescere insieme a una piccola etichetta e magari crescere l'artista, cresce anche l'etichetta. E quello è il, diciamo, modo migliore per venire fuori, per sbocciare, ok? Poi, dopo che hai fatto magari dei numeri interessanti, hai fatto le tue esperienze, poi puoi decidere, quando hai raggiunto un buon livello, di passare con qualcuno più grande, ok? Però all'inizio, secondo me, o fai da solo o una piccola label, ma lascia perdere le grandi etichette. Non sei, non siamo pronti, non siamo sempre pronti ad arrivare a quei livelli lì. E succede che le persone che, perché magari di talento, che hanno pubblicato, scritto in un determinato periodo cose che funzionavano, si siano poi imbattute in grosse etichette, ma non erano pronti. O prendi una fregatura, perché non conosci neanche bene il settore, o ti bruci, ok? Quindi è anche importante il momento in cui entrare in una grande etichetta. Quindi all'inizio state, rilassatevi. Poi, voglio dire, questo discorso ha ancora senso, le cose sono molto cambiate. Paradossalmente ci sono progetti che non pensano proprio né alle grandi etichette, non pensano proprio né a Sanremo, non pensano proprio ai talent, ma lavorano direttamente sui social e creano grossi, grossi, grossi pubblici, diciamo, no? Cioè, si fanno amare da tantissimi fan attraverso i social, ok? Ragazzi, ho fatto qui un video, prendete l'esempio che calza sempre a pennello. Io ricordo un'intervista allo stato sociale in cui gli veniva detto se chiedevano i cazzo, ve li ricordate? Non so se... sì, è uscito anche il disco da poco. Comunque, vi ricordate i cazzo a Sanremo? I cazzo a Sanremo ci sono andati come giovani, ok? E non è stata una mossa proprio intelligente, secondo me. E in quel periodo chiesero allo stato sociale se anche loro avevano mai pensato di andare a Sanremo giovani. E la risposta è stata perché Sanremo giovani? Al massimo andiamo come big. E così è stato, sono andati da big, hanno avuto la testa, l'intelligenza di andare dopo, ok? E infatti poi sono cresciuti sfruttando la rete, sono partiti dal bus, ok? Quindi all'inizio, secondo me, o da soli, o con una piccola label, che è la cosa migliore, così non sei solo, perché solo... Però è una piccola label che ti aiuta con quello che può, ok? Però è gente seria appassionata, perché di solito una piccola label nasce per passione, non per grandi mira, espansionistiche di conquista del mondo, diventare ricchi, no. È una passione, e poi ci sono etichette che sono esplose e quindi quella passione poi è diventata un lavoro. Quindi piccole etichette, magari vedere chi in quel momento è abbastanza appassionato, si muove bene, sceglie bene le band, riesce a creare un bel team. Piccole etichette, ok, che ci aiutano, ma no, ma le grosse etichette lasciamole perdere, soprattutto all'inizio, ok? Perché bisogna maturare, ok? Ditemi cosa ne pensate nei commenti della vostra esperienza e ci vediamo al prossimo video.